Le anime del Purgatorio possono manifestarsi a noi? Le anime dei nostri cari, ad esempio, possono in qualche modo rendersi presenti? Cosa dice la dottrina cattolica a riguardo? Come possiamo distinguere queste manifestazioni da quelle diaboliche? E qualcosa di importante di cui parleremo oggi. Buongiorno, mi chiamo Somalia Maniscalco e questo è il canale I Angeli Sono Con Noi. Diciamo subito che sì, le anime del Purgatorio possono manifestarsi e vi spiegherò come questo avviene, cosa dice la dottrina cattolica e poi come capire se non si tratti invece di manifestazioni diaboliche. E mi baserò sullo studio di due libri. Uno è di un sacerdote gesuita che ho già mostrato qualche video fa, il Dogma del Purgatorio, di Padre Schuppe. Questo libretto è molto interessante. Se volete saperne di più sul Purgatorio, è disponibile gratis online. Vi lascio il link in descrizione. L'altro libro, per ora solo in inglese, è di Padre Vincent Lampert, un esorcista molto famoso negli Stati Uniti che scrive di questi fenomeni. Prima di procedere, vi ricordo appena che potete lasciare le vostre intenzioni per la Santa Messa di questo venerdì cliccando sul link che trovate in descrizione o nel primo commento in evidenza. Ora, che gli spiriti dei morti appaiono talvolta ai vivi è un fatto che non può essere negato. Il Vangelo lo presuppone chiaramente. Quando infatti Gesù risorto apparve per la prima volta agli apostoli riuniti, essi, dice il Vangelo, pensarono di aver visto uno spirito. Nostro Signore, lungi dal dire che gli spiriti non appaiono, disse loro Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi. Sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Così leggiamo nel Vangelo di San Luca, al capitolo 24. Dice Padre Sciuppe Ben sovente avvengono le apparizioni delle anime che si trovano in purgatorio. In gran numero le troviamo nelle vite dei santi, anzi, talvolta avvengono a fedeli ordinari. Le apparizioni delle anime purganti, dice la Be Ribe, la Bate Ribe, non sono rare. Dio le permette a sollievo delle anime che implorano la nostra compassione, come anche per far intendere quanto sono terribili i rigori della sua giustizia da noi talvolta giudicati leggeri. Spesse volte Dio concesse a parecchie anime sante di vedere e visitare il purgatorio. Santa Caterina Ricci in spirito scendeva in quel luogo tutte le notti delle domeniche. San Liduina, di cui parleremo a lungo nel nostro canale perché viveva con il suo angelo custode, San Liduina nel tempo dei suoi rapimenti penetrava nel purgatorio e condotta dal suo angelo custode visitava colà le anime nelle loro pene. Ugualmente un angelo condusse la Beata Osanna di Mantova attraverso quei luoghi di dolore. Più spesso sono le anime purganti medesime che si rivolgono ai vivi e domandano la loro intercessione. In tal modo parecchie apparvero alla Beata Margherita Maria Lacocca e ad una moltitudine di altre sante persone. Fine citazione Quindi le anime del purgatorio possono manifestarsi, sia apparendo direttamente e assumendo un aspetto figlio, o attraverso alcuni segni, come adesso vedremo. Le anime del purgatorio, prosegue padre Schuppe, quando compaiono ai vivi, sempre si presentano in un atteggiamento che muove alla compassione. Ora con i lineamenti che avevano in vita o alla loro morte, con una faccia triste, sguardo supplichevole, in abito di duolo, con l'espressione d'estremo dolore. Ora come una luce, una nube, un'ombra, una qualunque figura fantastica, accompagnata da un segno o da una parola che le faccia riconoscere. Altre volte manifestano la loro presenza con gemiti, singhiozzi, sospiri, affannoso respiro, lamentevoli accenti. Spesso compaiono circondate di fiamme. Quando parlano manifestano i loro patimenti, deplorano le passate manchevolezze, chiedono suffraggi o anche fanno rimprovi a quelli che le dovrebbero soccorrere. E spesso accade che Dio permetta di scontare i loro tormenti, non nel purgatorio vero e proprio, ma di espiarli da qualche parte sulla terra, ma soffrendo i tormenti propri del purgatorio. Ora, come faccio a sapere cosa sta realmente accadendo? A volte possiamo sentire dei passi o bussare alle porte, una serie di manifestazioni del genere. Come faccio a sapere se è un'anima del purgatorio e non una manifestazione diabolica? Ed ecco che qui ci viene in aiuto padre Vincent Lampert. Dice C'è una chiara distinzione da fare tra le anime del purgatorio che appaiono e le cose maligne. Uno spirito maligno è un angelo decaduto, mentre le anime che la gente chiama anime defunte sono le anime di persone che sono morte. Le persone mi chiedono sempre se è possibile che un'anima del purgatorio, di una persona cara, possa ancora manifestarsi in qualche forma da qualche parte sulla terra. Sia chiaro che quando moriamo non possiamo scegliere di nostra spontanea volontà di continuare a essere presenti in questo mondo. Non è così. Solo Dio può permetterlo. Gli esorcisti vi diranno che il 99,9% delle volte in cui le persone parlano di infestazione di queste manifestazioni si tratta di cose malvagie. Cioè sta dicendo che le manifestazioni delle anime del purgatorio in questo caso sono meno frequenti del problema dell'infestazione. Tuttavia, prosegue, una piccola percentuale può essere attribuita ai nostri defunti ai quali Dio permette in qualche modo di chiedere le nostre preghiere. Niente di più. Quando è un demone infestare un luogo, le persone hanno automaticamente un certo senso di paura, di tensione. Quando si tratta di un'anima defunta, questa paura non c'è. Dunque, se è un'anima del purgatorio, che è morte in amicizia con Dio, fa parte della Chiesa che soffre, è nella comunione dei Santi, la sua presenza non genera paura o tensione. Se c'è una manifestazione che provoca una certa tensione, un certo turbamento, paura, allora è segno che è una manifestazione del maligno. Quindi padre Lamperte cita due casi. Il primo. Una volta una signora mi disse che la sua casa era infestata anche perché alcuni oggetti si muovevano da una parte all'altra. Sentiva dei passi, sentiva gente che bussava alle porte e disse che era fastidioso avere persone che bussavano alle porte tutto il tempo, ma che questo non la rendeva nervosa. Poi disse che suo marito era morto e che quando erano sposati avevano avuto dei problemi. Il marito aveva divorziato, ma prima di morire aveva cercato di riconciliarsi con lei, chiedendole perdono. Fu dopo la sua morte che iniziarono i rumori. Una volta perdonato il marito e aver iniziato a pregare per lui, i rumori cessarono. Che cosa era successo? Era il marito che si era pentito del divorzio, che era morto in grazia di Dio, ma che stava espiando le sue colpe in purgatorio e chiedeva preghiere per alleviare le pene, alleviare i tormenti, forse anche liberarsi dal purgatorio. E questo dipendeva dal perdone e dalla preghiera della moglie, la sua legittima moglie. E quando lei lo perdonò e iniziò a pregare per la sua anima, le manifestazioni cessarono. Ed ecco il secondo fatto. In un'altra occasione lavorai con diverse famiglie di un quartiere che erano state testimoni di manifestazioni di spiriti. Queste persone potevano persino descrivere l'aspetto fisico di questi che sembravano dei fantasmi. Così fecero delle ricerche e scoprirono che questo nuovo quartiere era stato costruito sulla fattoria dove cent'anni prima era stata uccisa una famiglia. Quindi certamente alcuni o tutti i membri di questa famiglia si trovavano in purgatorio, si erano salvati. Quando poi, dopo aver fatto questa scoperta, nel quartiere le famiglie cattoliche iniziarono a pregare per le anima, e di coloro che si manifestavano, allora tutte le manifestazioni cessarono. Un segnale che si trattava di anima del purgatorio e che non si trattava di una manifestazione maligna. Bene, per oggi è tutto. Vi ricordo che c'è ancora tempo per lasciare le vostre intenzioni di preghiera per il santuario di Moon Saint-Michel cliccando sul link che trovate in descrizione o anche nel primo commento in rilievo. C'è tempo fino al 23 luglio. Si tratta di un beneficio esclusivo per quanti fanno parte del gruppo Apostoli dei Santi Angeli. Se volete sapere di cosa si tratta, alla stessa pagina delle intenzioni, scorrendo con il mouse verso il basso, troverete tutte le informazioni necessarie. E se questo video vi è piaciuto, prendete in considerazione l'idea di fare una donazione a una tantum al volo cliccando su quel simbolo che vedete adesso sullo schermo. Se state guardando i video con il cellulare lo troverete subito perché si trova sulla stessa fascia del tasto Condividi. Se invece state utilizzando il computer, è sufficiente cliccare sui tre pallini che trovate accanto al tasto Condividi. Spero allora che l'argomento di oggi sia stato di vostro interesse. Come sempre, chiedo e prometto preghiere. Noi ci vediamo giovedì. Che Dio vi benedica. Grazie a tutti.